Nell'ultima puntata di Temptation Island, trasmessa il 22 ottobre, uno dei protagonisti più chiacchierati è stato Alfred, il cui rapporto con Anna ha acceso un acceso dibattito. Prima di iniziare, vi invitiamo a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per non perdervi nessun aggiornamento, un gesto semplice, ma di grande valore per noi. Durante l'episodio, Alfred ha rivelato di non avere una relazione stabile, ammettendo solo una breve frequentazione con la tentatrice Sofia, una parentesi che si è chiusa senza alcun seguito. Ha anche affrontato un confronto aperto con Anna, scusandosi per alcuni atteggiamenti passati. Ma il colpo di scena è arrivato subito dopo, Sofia, in un'intervista successiva, ha svelato una versione ben diversa che ha aggiunto nuovi dubbi su Alfred. Ha accusato Alfred di essere manipolatore, raccontando che, poco dopo la sua rottura con Anna, le avrebbe chiesto di trascorrere la notte insieme, proposta che lei ha rifiutato invitandolo a riflettere sulle sue scelte. Inoltre, Sofia ha parlato di promesse mai mantenute, come viaggi romantici a Parigi e New York, sfumati nonostante le dichiarazioni d'amore in cui Alfred la definiva, la donna della sua vita. La loro relazione, a detta di Sofia, si sarebbe conclusa in modo glaciale, con un semplice messaggio. Il racconto di Sofia getta una nuova luce su Alfred, dipingendo un personaggio ben diverso da quello mostrato sullo schermo e suscitando un vortice di polemiche, lasciando i fan con mille interrogativi ancora aperti. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video e tutte le novità.